Sono state collocate delle transenne e disposto il senso unico alternato in via Piersanti Mattarella a Favara, nel tratto interessato dalle crepe. Dopo la segnalazione di pericolo fatta dai cittadini, dal comune hanno provveduto a collocare il loco apposita segnaletica. Come ricorderete, nel servizio andato in onda l'altro ieri si parlava del grido d'allarme lanciato dai residenti. Il loro timore è che le preoccupanti crepe apparse sul manto stradale possano essere dovute ai movimenti franosi del costone sovrastante. Ai nostri obiettivi non sono sfuggiti gli squarci che in prossimità di una curva tagliano la carreggiata della strada. Stamattina, recandoci sul posto, abbiamo potuto notare anche come parte del muro che rasenta il costone è ceduto in strada. Le abbondanti piogge abbattutesi in questi mesi hanno sicuramente appesantito il terreno sovrastante. Ecco quindi dal comune collocare sul posto apposita segnaletica. Indicazioni che però hanno delle contraddizioni. Dalla parte alta di via Piersanti Mattarella è stata posizionata una transenna con divieto di transito, ma spostandoci 100 metri più sotto notiamo come si può circolare a senso unico alternato. E adesso ci chiediamo, possiamo o non possiamo percorrere via Piersanti Mattarella direzione Viale Aldomoro? Tralasciando questo dilemma ritorniamo al problema Crepe. Via Piersanti Mattarella non è nuova a movimenti franosi. Nel 2009 la strada venne chiusa al traffico per la caduta di grossi massi dal costone roccioso. Successivamente venne riaperta grazie al finanziamento della regione che aveva stanziato circa 196.000 euro serviti per l'esecuzione dei lavori di contenimento, rotolamento massi con posa in opera di speciali rete metalliche di protezione. Le grosse crepe sul manto stradale e il crollo di parte del muretto sono dei segnali che secondo noi non vanno sottovalutati, soprattutto perché a Monte del Costone sono presenti delle abitazioni. Anche in questo servizio invitiamo amministrazione e ufficio tecnico comunale ad adoperarsi il prima possibile, a effettuare i dovuti sopralluoghi e perché no a predisporre già un progetto di messa in sicurezza che possa in caso di possibili finanziamenti da parte della regione o del governo centrale essere esecutivo. Non vogliamo trovarci a fronteggiare un'emergenza con relativi disagi per residenti e automobilisti quando già in tempi non sospetti c'è tutto il tempo per preparare un progetto ad hoc.